Buonasera, ancora ben trovato al pubblico di Blog Sicilia, nuovo appuntamento con il nostro Talk Sicilia elettorale, oggi è il nostro ospite in studio Carmelo Miceli del PD. Lo ringraziamo intanto per essere qui con noi, che è venuto a trovarci ancora una volta con lui, però cominciamo subito da una domanda un po' provocatoria, esiste ancora il PD? Certo che esiste il Partito Democratico, il Partito Democratico esiste attraverso un momento complicato, prova a fare una campagna elettorale in alternativa, netta alla destra, ad una destra pericolosissima, una destra che appena ieri ha bloccato la città di Palermo arrivando Financo a limitare il diritto alla libera circolazione dei cittadini. È un Partito Democratico che chiaramente fa questa campagna elettorale e alla fine di questa campagna elettorale dovrà riflettere, fare i conti con i risultati e poi rilanciarsi. Dunque Carmelo Miceli è candidato, è candidato sia alle elezioni nazionali, adesso ci ricorderà anche dove, sia all'Assemblea regionale siciliana. È una candidatura la sua che nasce di servizio, perché diciamolo è così, non è una posizione comoda quella in cui si trova per le elezioni nazionali. Sì, allora io sono un parlamentare cosiddetto uscente, sono un parlamentare che ha prodotto 799 atti alla Camera dei Deputati, un parlamentare che ha portato il Parlamento a votare sui suoi atti per più di 580 volte, quasi il 5% delle votazioni hanno avuto a che fare con atti a mia firma. Ho completato un percorso, spero di averlo fatto con onore e disciplina, come dice la formula sacrale di giuramento alla Camera dei Deputati. La segreteria nazionale, dopo il risultato delle amministrative di Palermo e il mio piazzamento come primo di tutta la compagine del centro-sinistra, ha ritenuto che non fosse sufficiente e mi ha offerto la possibilità di una candidatura al terzo posto al plurinominale Camera nel Collegio di Palermo. Ho accettato con spirito di servizio perché ritengo che chi ha avuto tanto, e io ho avuto tanto, ho avuto l'onore di essere parlamentare della Repubblica, deve ogni tanto restituire. In questo caso restituisco anche di più di quello che ho avuto, candidandomi, accettando la candidatura alle politiche e rilanciando con la candidatura all'Assemblea regionale. Quindi questa candidatura per spirito di servizio però c'è un fatto oggettivo che nel Partito Democratico c'è un problema. Diciamo che nel Partito Democratico i problemi non sono mai mancati, ma è l'ovvia conseguenza di una struttura partito nella quale coesistono tante anime, talvolta pure troppe, ma non c'è una struttura piramidale, verticistica, tale per cui finito il leader finisce il partito. Questo può accadere nella Lega di Salvini, può accadere in Forza Italia ed accadrà in Forza Italia, può accadere in Fratelli d'Italia e accadrà in Fratelli d'Italia. Più sono le aspettative, maggiori sono le delusioni, abbiamo imparato. Nel Partito Democratico questo non può accadere, non può accadere perché il partito c'è, c'era e ci sarà, a prescindere dai segretari. E i segretari è chiaro, ci sono fin tanto che le loro linee politiche vanno bene o portano risultati. Comunque resta dei conti, noi la chiamiamo così giornalisticamente, nel Partito ci sarà subito dopo queste elezioni. Nel Partito ci sarà quello che c'è sempre stato, ci sarà l'analisi del voto, saranno valutate le linee politiche, ci sarà l'analisi dei risultati e ci saranno le conseguenze dei risultati. Io spero di poter avere la conferma del mio segretario nazionale e del mio segretario regionale perché è chiaro che le scelte si commentano dopo, vedendo i risultati che queste scelte hanno prodotte. Ove queste scelte non dovessero essere positive, da sempre ci sono degli atti dovuti. Appena un paio di giorni fa, seduto esattamente in quella sedia, il vice segretario nazionale del Partito, Beppe Provenzano, diceva invece che il Partito non è mai stato così unito, a noi così non sembra. Io credo che noi dovremmo provare a raccontare le cose per come stanno. Le scelte che sono state fatte sia sulla linea politica che sulle candidature, specie quelle alle elezioni politiche, di Camera e Senato e poi anche il modo di gestione della preparazione delle liste e della coalizione per le regionali non ci ha visto così uniti. È chiaro però che a mio avviso non è corretto fare come ha fatto qualcuno, solo per fini elettorali tornacontistici, di provare a impantanare la discussione politica attuale con le logiche delle divisioni interne al Partito Democratico. C'è un momento per tutto, c'è sempre stato e ci sarà. Adesso è il momento delle elezioni, è il momento di combattere politicamente contro la peggiore destra di sempre. Poi ci sarà il momento per la cosiddetta resa dei conti interna e in quel frangente, in quel contesto valuteremo chi ha avuto regione e chi no. Per chi segue le cose della politica, per chi ha seguito la storia del Partito Democratico, anche quella più recente, vedere un accordo con altri esponenti, chiamiamoli così, di correnti interne al Partito come Antonio Rubino che ha ufficializzato e ha lasciato sorpresi. Voi ne avete anche scritto tanto. Io e Antonio ce ne siamo dette di ogni. Tra noi non è mai mancato il rispetto umano, ci sono state profonde divisioni sulla politica. Avevamo una certezza però che o che ci fossimo ritrovati sulla politica, allora qualcosa di bello sarebbe potuto nascere. Devo dire che non è un accordo, è un progetto che è qualcosa di diverso, è un progetto che nasce dalle amministrative, continua per le regionali, ha l'ambizione di guardare anche oltre a quella fase che fisiologicamente prima o poi si aprirà, la fase congressuale. Nasce puntando alla unificazione in un luogo in cui, in un contesto in cui troppo spesso si è stati abituati a dividere l'automo e anche in più parti, noi credo siamo il primo caso di riunificazione di qualcosa di diverso, portato a sintesi e portato sulla politica. Abbiamo unito Antonio, abbiamo unito anche tanti altri soggetti politici che vengono anche da altre esperienze correntizie, così si chiamano, e l'idea è quella di provare a ricostruire, provare a ridare intanto una casa. Io non lo so se la liquefazione del Partito Democratico attraverso la creazione di luoghi di discussione esterne alle nostre sezioni ha agevolato il percorso, anche quello verificheremo all'indomani delle elezioni, abbiamo le cosiddette agora che hanno portato anche all'indicazione di alcuni soggetti all'interno delle liste siciliane. Spero che queste indicazioni diano il massimo per il partito. È chiaro che noi immaginiamo, forse perché siamo nostalgici, il fatto che alcune buone abitudini non debbano essere smarrite, noi vogliamo ricostruire i circoli in ogni comune, noi vogliamo ridare casa a chi vuole comunque manifestare il proprio pensiero. E devo dire che il messaggio sta passando e sta passando anche forte. Se è vero come è vero che vedo che i miei competitor interni oggi cominciano a parlare della necessità di rinnovare. Io credo che anche questo vada rinviato ad una fase diversa, però invito tutti e anche e soprattutto i competitor a entrare nell'ottica che serve anche un minimo di autocritica. perché capisco le ragioni di chi ha voluto rifiutare candidature non utili al Senato. Io ho accettato la candidatura non utile e penso che sia più opportuno accettare la candidatura non utile in questa tornata elettorale perché il nemico è la destra. Capisco anche se lo stesso soggetto dice che va cambiato tutto. Capisco e condivido. Che bisogna rinnovare e ripartire. Capisco e condivido. Il momento storico non è questo. Quello che però non posso condividere è che l'invocato rinnovamento possa avvenire senza autocritica. Perché, e concludo, se ci sono soggetti che sono lì da 30 anni e non c'è stato un rinnovamento, un minimo di autocritica talvolta può servire. Il bersaglio politico lui non lo ha detto, lo dico io e Antonello Cragolici. No, non abbiamo bersagli, abbiamo soggetti... Di questo ragionamento, di questo ragionamento. È il diretto interessato di questo ragionamento, indubbiamente. Ma non abbiamo mai fatto mistero di queste cose. Bene, fin qui abbiamo parlato per il primo terzo di questa trasmissione, in buona sostanza, delle dinamiche interne al PD, che sono comunque importanti, che continueranno dopo queste elezioni. Ma parliamo un attimo invece, adesso, di queste elezioni. Perché c'è un confronto in atto importante sulle cose da fare. E il Partito Democratico ha delle proposte. Ma, Carmelo Miceli, cosa propone quando parla con gli elettori della sua candidatura? Ma io intanto parto dal bilancio delle cose fatte. Perché se c'è una norma che, per esempio, ha salvaguardato la gestione in house delle cosiddette reti storiche idriche, è figlia della mia attività politica, della capacità di essere punto di riferimento per tantissimi amministratori locali che ho ricevuto, a prescindere dalle appartenenze. Ho fatto arrabbiare i miei talvolta, perché ho risposto al telefono ai sindaci, ai amministratori di qualunque forza politica, ma io ritengo che un mandato vada onorato in questo modo. C'è la battaglia fatta e vinta a metà per la nomina di un commissario straordinario per le strade provinciali. Nel 2019 siamo riusciti, per legge, a istituzionalizzare la figura del commissario straordinario, perché anche lì io credo sia arrivato il momento di uscire dalla stucchevole e falsa rappresentazione che esista qualcuno che è pro-ponte sullo stretto e contro il ponte sullo stretto. Io credo che chi ha ambisce a governare deve avere la capacità di mettere in piedi una visione per le emergenze a medio termine e a lunghissimo termine. Allora, viva Dio, sì, il ponte, ma nel frattempo però si parta dalle strade provinciali. E quando tu hai la possibilità, perché ti rendi conto che i tempi normali, ordinari, non sono idonei a rimediare ad una tragedia che produce tragedie ogni giorno. Su quelle strade muoiono persone ogni giorno. In quelle strade, che sono impraticabili, le macchine non passano più, i territori si svuotano. E allora, se hai la necessità di individuare un modello che può essere che è già stato vincente, vedere quello che è accaduto a Genova, e quel modello lo puoi replicare anche in Sicilia, se ottieni nel 2019, allora ministro De Micheli, del mio partito, sottosegretario Margiotta, del mio partito, ottieni una norma che hai scritto anche con chi di queste cose capisce, e quella norma poi però non viene attuata, perché la regione siciliana, guidata dal centro-destra, perché deve essere chiaro un concetto, questa regione non è stata amministrata da nessuna ragione, nella Meloni. Schifani è in continuità, perfetta con Musumeci, e su questo gli siciliani dovrebbero decidere. Quando tu hai una norma che ti dice che puoi nominare un commissario straordinario, con poteri straordinari che derogano alle logiche degli appalti, stringenti, talvolta anche bloccanti, procedendo immediatamente a rimediare a quelle strade, hai pure i soldi, si perde dal 2019 al 24 gennaio del 2022, tempo per nominare il commissario, perché la logica era quella di farne l'ennesimo luogo di sottogoverno, e non si poteva nominare quello che noi dicevamo, un soggetto terzo, il provveditore delle opere pubbliche, Ievo Lella, che è stato poi effettivamente nominato. E poi quando lo nomini, prima della campagna elettorale, non intuendo e potrebbe anche essere una ragione in più per gli elettori per votarti, non procedi neanche all'allocazione delle somme che ci sono, 33 milioni di euro per il rifacimento di 32 arterie principali, ecco, lì dimostri di essere inefficiente. Cosa propone Carmelo Miceli? Rimediare a queste inefficienze, rimediare a quella nefandezza che è la restituzione di centinaia di milioni di euro all'Europa, perché il PNRR non è la panacea di tutti i mali, il problema è che noi soldi in teoria le avremmo sempre avuti. Ma se tu della programmazione precedente, che è già finita da un pezzo, devi ancora fare la rendicontazione. E nel frattempo è già partita la programmazione europea nuova. Nel frattempo sei uscito dalla regione obiettiva e perdendo questo treno, poi prossimamente nella prossima programmazione non avrai più i vantaggi della regione obiettiva. Se tu non riesci a progettare, e basta prendere l'esempio dei 31 progetti per il rafforzamento della rete idrica, tutti e 31 bocciati perché ritenuti ridicoli. Se hai problemi del genere, come pensi di poter creare un nuovo sviluppo per la nostra terra? Io questo vorrei fare. Da maggioranza, provare a fare queste cose. Se dovessi essere opposizione, torturare politicamente chi queste cose non le fa. Il tema dei progetti che non si fanno è stato detto da più persone sedute proprio su quella sedia, dipende dal fatto che mancano risorse umane incompetenti e in grado di fare tutto questo, che occorrono nuove risorse umane. No, allora, che i politici debbano scaricare la responsabilità sulla burocrazia è qualcosa di infantile, è codardo. È codardo. Perché la responsabilità è sempre della politica. Perché i dirigenti generali sono sotto i dettami dei politici e perché a loro volta i funzionari e i dirigenti che sono sotto i dirigenti generali non possono ottemperare le indicazioni che sono fornite gerarchicamente. Prima i dirigenti generali e poi dalla politica. È troppo comodo dire che hanno sbagliato i dipendenti regionali. Troppo comodo. Semmai ci si deve chiedere il perché i dirigenti generali non sono stati mai chiamati all'ordine. E non è un attacco ai dirigenti generali. È un attacco alla politica incapace. Le letterine mandate dal presidente Musumeci ai dirigenti generali, agli uffici per scaricare la responsabilità sono quanto di più codardo possa esistere. Noi abbiamo la necessità, anzi, di ristimolare il personale della regione siciliana, di rimpinguare il personale in alcuni uffici. Parlo, per esempio, dell'ufficio energie rifiuti. Perché c'è un problema rifiuti? Non fosse altro perché c'è effettivamente una carenza di personale che però altrove e in altri luoghi è molto di più. Liberiamo un po' gli uffici di presidenza con i distaccamenti e mettiamo il personale a lavorare. Perché quel personale messo a lavorare probabilmente esita le istanze e quelle istanze possono produrre, per esempio, nuovi centri di raccolta, nuovi centri per le differenziate, nuova autorizzazione per rinnovabili. Questo dobbiamo fare. Energia. Abbiamo accennato il tema e quando si parla di energia immediatamente a me viene in mente quello che sta succedendo sul fronte dei costi dell'energia che stanno mettendo in ginocchio imprese, famiglie e così via dicendo. Occorre un intervento immediato. Beh, però anche lì dobbiamo essere sinceri perché io non lo so se chi ha amministrato fino ad oggi la nostra regione ha mai letto l'articolo 117 della Costituzione, comma 3. L'articolo 117 individua le cosiddette competenze legislative e individua nella regione siciliana o meglio, nelle regioni in generali una competenza cosiddette concorrente in tema di energia. Cioè una competenza che aspetta alle regioni che possono legiferare e operare con un unico limite rispetto dei principi generali stabiliti all'ordinamento e quindi dalle leggi nazionali. Ecco, il fatto che in Sicilia non ci si ponga il problema di come legiferare per migliorare una rete una rete che è quella che in teoria dovrebbe consentire di scaricare l'energia prodotta dalle rinnovabili e che invece va in tilt perché è incapace di assorbire tutta l'energia che si può produrre e andate a vedere se e quante volte avete incontrato paleoliche ferme lungo il territorio regionale quelle paleoliche in teoria dovrebbero girare sempre e produrre energia e che la terra del sole e del vento sia incapace di diventare l'hub di distribuzione dell'energia in Europa non soltanto in Italia è qualcosa che grida vendetta. Tornando un attimo al tema delle risorse umane anche nel PD però a cominciare dai vertici c'è chi dice bisogna procedere a fare almeno 300.000 assunzioni da destinare ai comuni alle regioni perché effettivamente ci sono situazioni nelle quali un sindaco fa tutto da sé. Sì lì c'è una secondo me c'è un'occasione persa che è da imputare alla conclusione prematura della della legislatura perché insieme alla ministra Lamorgese avevamo predisposto una riforma al testo unico degli enti locali che avrebbe potuto consentire preso atto delle condizioni di disastro economico in cui vertono i comuni preso atto di un dato che se l'Italia non è fallita durante il covid e subito dopo il covid è solo perché ha avuto la possibilità di ottenere la deroga diciamo cosiddetta di bilancio da parte dell'Unione Europea siamo andati in cosiddetto scostamento per oltre 200 milioni di euro ora se questo lo può fare lo Stato a cascata a nostro avviso avrebbero dovuto farlo almeno per un periodo i comuni e se tu hai delle logiche le cosiddette logiche che ti imponono la legge di armonizzazione del bilancio che io condivido sotto il principio morale della necessità di un comune di non spendere di più da quello che può incassare poi c'è un altro aspetto la capacità di spendere in maniera produttiva e fare debito produttivo ma rimaniamo a questo se tu non modifichi queste norme e non consenti di poter assumere personale in deroga a queste norme o quantomeno vedi Palermo di aumentare le ore per quegli 2000 lavoratori che sono part time e che essendo part time non riescono con 18 ore tra 18 e 20 ore alla settimana non riescono a offrire servizi alla città con il circolo vizioso che la carenza di servizi determina disservizio il disservizio fa apparire il tributo ingiusto con qualche forbetto pure il tributo ingiusto non viene pagato il debito crea debito e questo circolo vizioso produce quello che vediamo anzi a proposito io avevo sentito parlare di un piano straordinario di pulizia di questa città io sarei dell'idea che se si partisse dall'ordinario e non dallo straordinario ne saremmo molto felici io capisco che c'è un periodo in cui uno deve deve fare la fase di rodaggio però sono passati quattro mesi noi chi ambisce a amministrare la città di Palermo lo deve fare sapendo già dal minuto dopo quello che deve fare a me sta arrivando la sensazione devo dire non solo a me che in realtà si stia attendendo l'esito delle elezioni prima delle regionali adesso delle politiche e poi forse in funzione dei nuovi equilibri politici e regionali stabiliremo chi effettivamente farà l'assessore e come io penso che il sindaco debba dare un colpo di Reni debba azzerare tutto e rifare un'aggiunta di salute pubblica lo chiarisco alle male lingue che hanno provato a dire ah Miceli vuole soccorrere la galla da subito vuole fare l'ingiugio no non esiste la salute pubblica indetermine lui gli assessori e non bussi alla casa e al partito democratico ma faccia le cose che servono alla città ma può essere anche almeno questa è una sensazione che a chi segue le cose del comune che si stia aspettando non soltanto le elezioni ma anche che arrivi un governo col quale trattare per il bilancio di Palermo ma io devo dire la verità non mi risulta che il ministero dell'economia e finanza sia chiuso non mi risulta che il ministero dell'interno sia in ferie mi risulta che ci sono degli uffici che lavorano con i quali io seguo alcune vicende che interessano i comuni tutti i giorni spero che qualcuno non voglia aspettare il ministro di favore per immaginare se possa risolvere i problemi quei luoghi lì sono luoghi in cui c'è una burocrazia seria ci sono delle istituzioni serie e se le istanze sono buone e gli atti sono preparati bene gli atti trovano accoglimento quindi il problema è se quegli atti vengono preparati bene a Palermo ha mille altre emergenze purtroppo li conosciamo tutti dal cimitero all'immondizia abbiamo parlato alle strade abbiamo accennato anche questo ma siamo una veloce tappa sul cimitero secondo Carmelo Miceli cosa bisognerebbe fare in questo momento? Io intanto vorrei capire dal sindaco cosa intende fare con il cimitero perché a me pare che tutto quello che è stato detto in campagna elettorale al centrodestra ad oggi non abbia trovato nessuno approdo io l'ho detto allora lo ribadisco adesso anche lì bisogna ragionare in termini di emergenza medio termine e lungo termine è evidente che la città di Palermo deve essere vissuta come città metropolitana è evidente che i problemi cimiteriali debbano essere affrontati con l'oggettività di chi ha il forno crematore che non funziona una carenza di posti cittadini anche stranieri che vivono qui ma pensate per un attimo ai cittadini musulmani qualcuno si è mai posto il problema di cosa accade a un musulmano che ha una determinata religione e potrebbe anche essere italiano musulmano che ha una determinata religione e che non può avere il diritto di seperlirlo secondo le procedure che prevede il proprio credo perché in altri comuni esistono i cimiteri musulmani e a Palermo non esiste ma questo attenzione non significa pensare ai musulmani e non agli italiani sono cittadini allo stesso identico modo ma si vuole ragionare provando in un'ottica di insieme con i paesi di cintura Villa Abate piuttosto che Isola delle Femmine provare a individuare delle aree comuni provare a immaginare a lungo termine di costruire nuovi edifici dove dare una degna sepoltura alle nostre vittime ai nostri familiari si vuole pensare e immaginare nel frattempo però che qualcosa di emergenziale va fatto e soprattutto non si pensi ad accaparrarsi il merito di cose che comunque sono state determinate alle amministrazioni precedenti il tempo è finito 30 secondi perché lo faccio fare sempre a tutti di appello al voto perché votare Carmelo Miceli PD quali sono le cose che distinguono io credo che si possa votare Carmelo Miceli perché è una persona dotata di esperienza e competenza lo ha dimostrato nei fatti ha con disciplina o onore rappresentato e onorato il mandato di parlamentare nazionale lo ha fatto nell'interesse del territorio e solo ed esclusivamente nell'interesse del territorio e credo che di disciplina o onore di competenza e di capacità l'Assemblea regionale fino ad oggi abbia latitato grazie a Carmelo Miceli che ci ha dedicato questi 24 minuti grazie soprattutto a voi che ringrazio sempre per seguirci numerosi e speriamo avervi fornito elementi per scegliere nella cabina elettorale come dico sempre e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo Talk Sicilia arrivederci a presto